Leonardo Silva Revisore Non mi piace mai presentarmi come un artista, o meglio, la parola artista di per sé mi piace, ma è quello che suona nelle teste delle persone a non piacermi. Solitamente si pensa agli artisti come i grandi della storia dell'arte, non si pensa mai agli artisti contemporanei, che gli artisti contemporanei sono quelli che vivono i nostri giorni, giornate come tutti noi, e ricevono stimoli da cui rubare delle cose per poi riuscire ad elaborare e creare. Ad esempio, un'immagine come questa, semplice, che magari tutti abbiamo visto, sono delle balle di fieno ricoperte di una pellicola nera, oppure, ancora più semplicemente, degli imballaggi industriali creati con una pellicola possono trasformarsi in qualcosa di installativo, qualcosa di bello che dialoghi con gli spazi. Ed è solo l'uomo, a questo punto, che decide se vivere un'esperienza e azionare quella cosa oppure no. O, ad esempio, dei pannelli isolanti che spesso vediamo in edilizia, magari nei cappotti, possono essere visti sotto forma di pittura, con uno sguardo pittorico. Come avete capito, io ho incominciato a fare questo nei cantieri edili, utilizzando i cantieri edili. I cantieri edili sono questi enormi posti, solitamente, dove c'è tanto caos, tanti materiali, tanto disordine, tanto fastidio. Cioè, provocano solitamente fastidio, caos. Sono enormi posti dove ci sono tanti materiali ancora in disordine, ma sono materiali che devono diventare ancora qualcosa. Solitamente diventano delle cose belle per la società, però questa cosa è vista in maniera molto disordinata. e i miei primi ricordi di questi cantieri sono da quando ero bambino. Mi ricordo che mio padre spesso mi portava in questi cantieri perché lui si è sempre occupato di edilizia e ancora oggi se ne occupa. E vi posso assicurare che questi posti, per me, non erano né caotici, né sporchi, né disordinati, ma erano dei posti fantastici. Immaginatevi un bambino che vede una cosa del genere. Sono linee che volano. Gli oggetti si spostano, sembrano spostarsi con la forza del pensiero. Cioè, immaginatevi di essere bambini e vedere una gru che solleva una trave di 10 metri, pesantissima, attaccata da un filo e manovrata con un telecomandino. Cioè, è quasi un giocattolo, ma sono giocattoli enormi. E queste travi sembrano danzare nel cielo. o una betoniera. Avete presente una betoniera? Cioè, è vero, noi siamo abituati ai giocattoli, ma la betoniera è enorme e sembra quasi che ti incanti. Cioè, ha queste righe. Non lo so, con gli occhi di un bambino sono delle immagini stupende. E soprattutto tutto quel disordine, tutto quello squilibrio che ancora non era in squadra, che ancora deve diventare qualcosa, mi ricordava molto i miei disegni. Cioè, quelle immagini comunicavano con me, mi piacevano. E io, quando ero bambino, proprio da piccolo, ho incominciato prima a disegnare che a scrivere. Cioè, quel mondo lì, ho deciso che sarebbe stata la mia vita. Ho deciso che io volevo lavorare con le immagini. Quindi ho detto, bom, voglio fare l'artista. E poi, crescendo, ho continuato a dire voglio fare l'artista. E così feci. Studiai per fare quello, per lavorare con le immagini. Quindi liceo, accademia. Poi arrivo a un certo punto dove ti devi scontrare col mondo reale, il mondo del lavoro, e guadagnare qualche saldo per continuare a portare avanti anche l'arte, che non è una passione l'arte. È una cosa che ti senti. Cioè, è una cosa che vuoi portare avanti, a prescindere da tutto. Per cui è quasi, non dico una tortura, però è una cosa che devi fare e basta. Cioè, in qualunque caso. Quindi decisi che la cosa più facile per me fu tornare in quei cantieri, a lavorare in quei cantieri. ma questa volta da manovale, da costruttore, da operaio. E vi assicuro che la poesia un po' cambiava, soprattutto quando ti devi magari svegliare alle sei di mattina, d'inverno, al freddo, caricare e scaricare furgoni. Era un po' difficile ritrovare quella cosa lì. Però in realtà la magia non era cambiata. È che a muovere tutti quei materiali, a spostare tutte quelle cose, a farle volare con quella leggerezza, non erano più soltanto i pensieri, ma erano persone come me. Quindi ero io e altre persone che semplicemente dovevamo spostare delle cose da un punto A a un punto B, sotto delle indicazioni, sotto un disegno, che non avevamo deciso noi, però avevamo delle indicazioni per fare questo. E mi sono accorto che però quella cosa lì, giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, per me sarebbe diventata, o perlomeno avevo il sospetto che stesse diventando una routine noiosa e che mi avrebbe ucciso in qualche modo. e quindi mi sono chiesto ma dove è finito quell'entusiasmo che avevo da bambino? Cioè sono la stessa persona, perché non riesco più a vedere quelle cose lì? Cioè è impossibile che non riesco più a vederle. Beh, la differenza è che quando ero bambino mi annoiavo e disegnavo, disegnavo tanto, per cui la noia può essere davvero, o perlomeno, no anzi lo è, è un mezzo potentissimo per poter cambiare le cose, per poter cambiare la visione delle nostre giornate o di quello che stiamo facendo, perché ci obbliga la noia, ci obbliga a immaginarci mondi migliori, mondi diversi. E così tornando sul cantiere ho detto allora è possibile, cioè è mai possibile che tutte queste persone come me che costruiscono, costruiscono giorno dopo giorno, spostano cose, lo stanno facendo solamente per creare un'idea sola, un'idea che non hanno deciso loro. e se invece tutte quelle persone che spostano tutte queste cose, che lo fanno con tanta maestria e con tanta dedizione e tanta fatica, e se in realtà quelle persone stessero creando qualcosa senza neppure accorgersene, è da lì che mi sono reso conto che potevo essere lo scultore più fortunato del mondo, perché le opere c'erano, bastava solo guardarle, bastava solo guardare il punto di vista, si stavano letteralmente creando attorno a me, dovevo solo vederle. È così che da quel punto anche un ferro appoggiato ad una parete, in bilico, lasciato per sbaglio, poteva diventare qualcosa di magnifico per me, qualcosa che poteva vivere in una stanza, poteva vivere in uno spazio vuoto, poteva cambiare la percezione dello spazio, oppure semplicemente cambiando la disposizione di alcuni materiali, appoggiandoli, mettendoli in equilibrio, o dei pannelli, semplicemente dei pannelli, che quando li trasporti si incastrano tra il soffitto e il pavimento, bloccati in quel momento, bloccando l'immagine, scontornando tutto il resto, può diventare qualcosa che vissuto dal vivo ti trasmette un'emozione, diventa viva. O semplicemente anche dei badili infilzati nella sabbia, lasciati nella pausa pranzo, o dei tubi idraulici, non so se avete mai visto dei tubi idraulici tirati da una parete all'altra che rimangono nell'altra stanza magari e si muovono da soli, cioè quella cosa lì non la vede nessuno, ma se tu per sbaglio stai passando e la vedi, c'è un tubo che si muove con un'inerzia pazzesca, ed è come un… sono dei ballerini, è un'immagine fortissima, ogni materiale ha un modo di potersi presentare, bisogna solo trovare quella cosa lì, e quando la si trova è una cosa stupenda. E in questa cosa mi stavo accorgendo che lentamente mi stavo innamorando dei gesti delle persone in realtà, dei materiali ma anche dei gesti delle persone, quei gesti involontari, quei gesti a cui non si dà peso, che per me sono i più importanti, sono i più istintivi, secondo me sono quelli che valgono di più e io voglio dare molta attenzione a questi piccoli momenti in realtà. Vi racconto un ultimo episodio. Di recente sono stato invitato ad un progetto in Val d'Intelvi. La Val d'Intelvi è una valle o alcune valli che dividono la Svizzera dall'Italia, il lago di Como dal lago di Lugano. Beh, questo progetto ci è stato richiesto di realizzare delle installazioni permanenti che potessero dialogare con il territorio. In più ci è stata data la possibilità di lavorare con gli artigiani del posto, di quei paesi. Quindi io decisi di andare a trovare il marmista del paese. È un paesino molto piccolo, anche il marmista è piccolo. Però quando mi ha accolto ha incominciato a mostrarmi le sue lavorazioni, taglia d'acqua, frese, lastre bellissime di marmo, cose stupende che faceva. Lui gestisce il laboratorio con la madre. In tutte queste lavorazioni super belle io notai che nel piazzale c'erano questi strani plinti di cemento. Erano degli strani plinti, erano circa una ventina ed erano buttati un po' qua e là nel cortile, cioè non ce li faceva vedere, erano lì. e quindi visto che a me di solito piacciono un po' le cose che vengono lasciate un po' così, gli chiesi che cosa fossero questi strani plinti di cemento. E lui con la madre mi rispose che quei plinti di cemento li faceva il padre prima di morire. e il padre era venuto a mancare da poco. Quindi capì che quei plinti in realtà si portavano dietro di sé, dietro di un valore affettivo ed erano molto più importanti di quello che potevano sembrare. E decisi che con quei plinti avrei realizzato un'installazione. Quindi incominciai a giocarci e senza alterare la loro forma cercai di trovare una loro posizione, cioè la posizione più giusta per loro e quindi decisi di impilarli uno sopra l'altro ma questa cosa viene in automatico, cioè è come se alcuni materiali ti indirizzano loro dove devono essere messi. Quindi cominciai a impilarli e creai, usando praticamente tutti questi plinti, creai queste due colonne, cioè sono quasi due totem che ho installato in cima ad una collina. Il lavoro si chiama Metamorfosi, un po' ricordano anche un po' le colonne di Brancusi, però è una cosa che piace a me personalmente, però non è fondamentale nel lavoro. Ma la cosa interessante è che a pochi giorni dall'inaugurazione io tornai dal marmista e dalla madre chiesi alla madre così, cioè per educazione, per gentilezza, le chiesi se sarebbe venuta all'inaugurazione a vedere la mostra e lei mi rispose che sarebbe venuta solamente per rivedere il marito e quindi questa cosa all'inizio mi ha fatto sorridere ma in realtà se dovessi rispondere alla domanda perché l'artista, cosa fa l'artista, beh, io questo sinceramente non lo so, forse non mi interessa nemmeno, però probabilmente la risposta me l'ha data quella signora, una signora anziana che né si occupa d'arte né le interessa l'arte, soprattutto l'arte contemporanea, forse non sa nemmeno neppure che esiste, ma ha saputo riconoscere la vita in queste cose e per cui forse sono proprio lì le risposte su questo tema. Mi hanno detto che dopo anche altri hanno apprezzato le mie sculture, ma questo magari ve lo racconto la prossima volta.